Mina Pian Piano Attraverso Attilio M. Voce della quiete.vajanochiocciolagmail.com Una voce Tempo fa è stato introdotto il concetto di disconnessione e vi è stato mostrato come ciascun essere sia disconnesso nei pensieri e nelle emozioni che lo attraversano e nelle azioni che lui compie. E come però la vostra mente sia di ostacolo a divenirne consapevoli perché la sua funzione è quella di connettere tutto ciò che accade per darvi l'idea di un io, cioè di un centro unitario in cui identificarvi che ha un'identità separata e distinta ed una continuità negli anni pur nei molti cambiamenti a cui ogni essere va incontro. Alcuni addirittura parlano della continuità di un io che precede la nascita, le cosiddette vite precedenti e prosegue oltre la morte fisica in quello che viene chiamato l'aldilà. La via della conoscenza ammina pian piano i processi della vostra mente per portarvi a riconoscere di non essere quell'identità separata cioè la sommatoria dei limiti in cui amate identificarvi spesso glorificandoli per poter poi dire di averli in parte superati. Il compito del controprocesso è anche quello di far cadere il velo che avete costruito per creare una barriera fra le vostre immagini mentali e la realtà. Voi non siete quel che è il velo maschera ma siete un'unità di tutti gli esseri che nel relativo sono attraversati dalla vita.